Un pullman scolastico dentro l'ex macello di via Vespri. Il mezzo, così come si vede in questa foto, è stato parcheggiato all'interno dell'area perimetrale della struttura dismessa, condivisa dai comuni di Giarre Riposto, trasformatasi oggi in una bomba ecologica. All'interno infatti è stata certificata la presenza di una grossa quantità di Ethernet, così come riscontrato dall'assessore giarrese Franco Di Rao in un sopralluogo avvenuto la scorsa settimana. L'autobus che viene utilizzato dall'istituzione scolastica per il trasporto degli studenti che frequentano la succursale di riposto dell'alberghiero pone una serie di quesiti, così come denunciato dal quotidiano La Sicilia. A cominciare dalla potenziale contaminazione del mezzo, considerata l'alta nocività dell'amianto, che si potrebbe disperdere facilmente nell'area. Già l'assessore di Rao, a seguito del sopralluogo, aveva dichiarato la necessità di rimuovere al più presto una tettoia in Ethernet di un capannone che copre la superficie di circa 500 metri quadri. Ora resta da capire chi, tra i due comuni, ha autorizzato il mezzo scolastico a posteggiare all'interno dell'ex mattatoio. La dirigente scolastica dell'alberghiero, Monica Insanguine, dal canto suo, ha dichiarato al quotidiano La Sicilia di non aver trovato alcun documento riguardante l'accessione delle chiavi per l'accesso del bus, trattandosi di una vicenda che risale ad oltre vent'anni addietro. L'autobus viene parcheggiato nell'ex macello solo occasionalmente, afferma la Insanguine, e comunque mi risulta che nelle vicinanze non vi sia Ethernet. Tuttavia, ha preciso di non aver ricevuto segnalazioni riguardo la presenza di amianto dai due comuni, né da privati cittadini. Oltretutto quell'autobus verrà presto dismesso, essendo vecchio, e il nuovo mezzo verrà parcheggiato altrove.